Torna a massa ficta i colori della cultura. Dopo il successo dell'anno scorso siamo di nuovo a Villa Larinchiostra nel giardino dalle 6 e mezzo alle 20, da mercoledì 13 luglio in poi, un mercoledì sì e un mercoledì no. Vi aspettiamo perché si tornerà a parlare di prodotti tipici ma non solo, potremo anche assaggiarli. Quindi ringraziamo perché l'Associazione Cuochi ci metterà a disposizione proprio sia la preparazione ma anche poi la degustazione di questi prodotti. E quindi partiremo il 13 luglio nel giardino di Villa Larinchiostra, ovviamente tutto gratuito, l'amministrazione comunale di massa con la conduzione di Fabrizio Gelaiuti vi aspetta numerosi perché così possiamo parlare delle star del nostro territorio, i nostri prodotti, chi li produce, chi li coltiva e chi li distribuisce. Quindi non ci resta che vederci mercoledì 13 luglio e così via e per tutta l'estate fino al 7 settembre.